Benvenuti tutti nello studio del dentista di Telebue. Questa sera sulla mia sedia il docente di Psicologia dello Sviluppo Paolo Albiero, che insegna Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro all'Università di Padova. Arroia di fare un controllo, giusto? Molta voglia, sì. Sto scomodo su questa sedia? Sto benissimo, grazie. Non credo proprio, però sappia che non sarà un'intervista comoda. Sono pronto al peggio. Chi è Paolo Albiero? Paolo Albiero è un ragazzo di 40 anni che pensa di avere fatto tante cose, ma soprattutto di doverne fare ancora tante. Il suo corso in una frase? Dalla cellula all'uomo adulto. Sono più faticosi i suoi esami o le sue lezioni? Beh, penso che siano più o meno equivalenti, quindi molto piacevoli tutti e due. Per chi? Per lei o per gli studenti? Per entrambi, la piacevolezza è sempre reciproca. Ma ne è proprio sicuro? Sì, sì, sì. Sono convinto di questo. E si è anche convinto che i suoi alunni siano un branco di caproni senza speranza? No, un branco di caproni con speranza fino a che hanno dei docenti come me. No, scherzo. Penso, io ho molta stima dei miei studenti e degli studenti in generale. Qual è un difetto che proprio non perdone i suoi studenti? Non è molto diffuso, però sicuramente direi la maleducazione, nel senso che tante volte gli studenti, quando giustamente difendono i loro diritti, sono più attenti al contenuti che non alla forma. Un pregio invece che hanno i suoi studenti? L'entusiasmo, l'interesse e la curiosità scientifica. E se dovesse dirmi cosa manca al suo corso di laurea? Cosa manca al mio corso di laurea? Delle aule insonorizzate. Ogni volta che trasmetto dei video, io cerco lezioni di portare sempre molti materiali audiovisivi, mi arrivano da tutte le aule vicine protestando. A proposito di video, qual è il suo film preferito? Il sorpasso. La sua delusione più coccente? La mia delusione più coccente? Un'amicizia rotta in uno dei momenti più importanti della mia vita. E magari per dimenticare una delusione si è dato all'alcol, si è mai ubriacato? No, io, beh, ubriacato sì, ovviamente, come più o meno tutte le persone che vengono da mia età. Il vino preferito, vabbè, lasciando stare quelli più famosi, ovviamente, io amo molto i rossi del Trentino Alto Adige, perché sono di corpo medio e molto profumati. Quindi è meglio un vino complesso rispetto a uno semplice? Sì, però preferisco stare sulla fascia intermedia, il vino complesso merita occasioni complesse. Ho capito. Cosa la spinge ad alzarsi la mattina? Come ho detto all'inizio, la voglia di fare tante cose, finora non mi è mai mancata e spero non mi mancherà mai. Quanto dovrebbero studiare i suoi studenti per riuscire bene nel suo corso? Non so quantificarlo, penso che comunque la preparazione del materiale per l'esame corrisponde ai crediti del corso, sono otto crediti, quindi è un corso impegnativo. A proposito di esami, lei sicuramente ne avrà fatti? È stato bocciato mai qualche volta? Sì, sono stato bocciato due volte in biologia. Ha mai accettato un 18? No, il voto più basso che ho accettato, se ricordo bene perché è passato qualche anno, è un 25. Beh, se dovesse descrivere lo studente meglio di psicologia, tre parole, giusto un flash? È difficile perché sono studenti molto eterogenei a seconda dei diversi corsi di laurea e io vedo prevalentemente quelli del corso di laurea Scienze Sociali del Lavoro, sono degli studenti secondo me motivati, molto con i piedi per terra, molto realistici e anche con un certo entusiasmo. Quindi è un giudizio positivo? Assolutamente sì. Che cosa è che le fa più paura? La malattia e anche la morte, nel senso che quando superi una certa età e soprattutto quando hai un bambino comincia a vedere le cose in modo diverso, per cui ti preoccupi in maniera diversa di te stesso. L'incontro che le ha cambiato la vita? Tra tutte le persone che ha incontrato quella che le ha indicato la strada giusta? Nessuno mi ha cambiato, potrei rispondere in maniera un po' retorica forse mio papà, lo reputo un incontro, mio papà è sempre stato un uomo che ha lavorato molto, quindi è una figura presente, assente e io in realtà l'ho scoperto in passata l'adolescenza, quindi per me è stato un vero e proprio incontro con mio papà. E' giusto che tutti sappiano che il nostro professore qua seduto in realtà è un ex modello, quindi un conoscitore di moda, un giudizio così da esperto. Mi disinteresso totalmente di moda. Sleep o boxer ci dica? Ah, in questo senso. Beh, una volta avrei detto slip, adesso sicuramente boxer, se non altro per i rotoli di lardo. No, vabbè, ma io so anche che lei si tiene in forma, quindi no, non ci sono rotoli di lardo, perché... Bisogna fare movimento fisico. E quindi su un'isola deserta cosa porterebbe? La palestra? Non so, cosa potrebbe portare? No, assolutamente, porterei un videogestatore o un televisore. Perché ha scelto di fare il professore? E' stato un percorso anche questo non previsto. Io inizialmente quando scelsi psicologia mi volevo occupare di altre cose, anche di pubblicità. E poi mi sono appassionato alla ricerca facendola. Ho cominciato a studiare alcuni argomenti di cui mi occupo ancora, che mi hanno coinvolto molto. E poi, come sempre, le cose vengono poco alla volta, senza in realtà non c'è mai stato un disegno fisso rispetto poi alle cose che ho fatto come lavoro principale. Vecchio o nuovo ordinamento? Vecchio, assolutamente. Adesso le faccio una domanda che non tutti i professori conoscono e soprattutto molti non sanno rispondere. A quanto ammontano le tasse universitarie? Immagino che non lo sappia anche lei. Ecco, vabbè. No, so che sono tante e non so quantificare. Ma so che sono impegnative perché me ne parlano sempre i laureandi quando sono costretti magari per un motivo o per l'altro a rimandare la laurea di una sessione e in quel caso mi esplicitano il loro disagio legato a quello. Quindi non so qualificare. Toglietemi tutto, ma non il mio? Il mio bambino. Il mio bambino. Amacuti